I costruttori di ponti, Kipling Ingegnere Finglason, dei lavori pubblici, contava di ricevere al minimo una CIA, sperava una CSI. Anche gli amici gli dicevano che meritava di più. Aveva sopportato tre giorni di caldo e freddo, con trattempi, disagio, pericolo, malattia, con un carico di responsabilità fin troppo pesante per un solo paio di spalle. E giorno per giorno, in quel giro di tempo, sotto la sua direzione, era andato sorgendo sul Gange il grande ponte di Cascì. Prima di tre mesi adesso, se tutto procedeva bene, Sua Eccellenza, il vicere, avrebbe inaugurato il ponte in gran pompa. Un arcivescovo lo avrebbe benedetto, il primo convoglio di soldati lo avrebbe attraversato e ci sarebbero stati discorsi. Seduto nel suo trolley, su un binario volante steso lungo una delle scarpate principali, enormi argini, con rivestimento in pietra che si spiegavano a nord e a sud, per cinque chilometri su entrambi i lati del fiume, Finglason si permise di pensare a quando tutto sarebbe stato finito. Vie d'accesso comprese, la sua opera era lunga circa tre chilometri, un ponte con travate a traliccio, armato con armatura Finglason, posato su 27 piloni di mattoni. Ognuno dei piloni era ad un diametro di 7 metri e 20, incapsulato in pietra rossa di Agra, e scendeva 26 metri sotto il letto di sabbia mobile del Gange. Sopra scorreva la strada ferrata su una lunghezza di 4 metri, e ancora sopra questa una carreggiata di 6 metri circa, fiancheggiata da passaggi pedonali. All'una e all'altra estremità si innalzavano torri fortificate in mattoni rossi, con feritoie per moschetti e alloggiamenti per le bocche da fuoco, e la rampa stradale si stava spingendo verso il loro fianco. Sui tronconi dei terrapieni brulicavano centinaia e centinaia di asinelli, che risalivano arrancando dal lavoraggine del sottostante scavo, con sacchi di materiale. E calpestio degli zoccoli, la granuola di bastonate degli asinai, lo scrocio e il rotolio del terriccio rovesciato, riempivano l'aria calda del pomeriggio. Il fiume era in magra, e fra i due piloni centrali, sulla sabbia di un bianco abbagliante, tozze catasti di traversine ferroviarie, colmate all'interno e spalmate all'esterno di mota, si alzavano a sostenere le ultime longarine, mentre si provvedeva a fissarle con i ribattini. Su un pontile a palafitte, dove la siccità aveva lasciato un poco di acqua bassa, una gru a braccio andava avanti e indietro, piazzando di colpo al posto giusto travi di ferro, sbuffando e rinculando e grugnendo con brontolii da elefante, in un deposito di legname. Centinaia di ribaditori sciamavano sulle fiancate a tralizzo e sulle coperture di ferro della linea ferroviaria. Penzolavano da impalcature nascoste nel ventre delle travate, facevano grappolo intorno alle gole dei piloni, stavano a cavalcioni sugli oggetti delle incastellature dei passaggi pedonali. Nella vampa del sole, i loro fornelli e gli sprazzi che scaturivano ad ogni martellata, apparivano appena di un pallido giallo. Ad est e ad ovest, a nord e a sud, sferragliavano e stridevano avanti e indietro sugli argini i treni di cantiere, trainando vagonetti pieni di pietra bruna e bianca che sobbalzavano fragorosamente e poi, tolte le caviglie alle ribalte laterali, rovesciavano giù alcune migliaia di tonnellate di materiale per tenere a posto il fiume. Sul suo carrello, Finlayson si girò a osservare la regione alla quale, per vari chilometri tutto intorno, egli aveva cambiato volto. Guardò in basso, alle sue spalle, il ronzante villaggio di cinquemila operai, a monte e a valle la prospettiva di contrafforti e di sabbie, verso l'altra riva del fiume i piloni che rimpicciolivano nel tremolio della calura, alte sopra il suo capo le torri di guardia, che solo lui sapeva quanto erano robuste. e respirò soddisfatto, perché vedeva che il lavoro era buono. Dinanzi a lui, nella luce del sole, si ergeva il suo ponte. Con poche settimane di lavoro ancora da completare, alle travate di tre piloni centrali, il suo ponte, grezzo, brutto come il peccato, ma pucca, stabile, destinato a durare, dopo che ogni immemoria del costruttore, e sì, persino della stupenda armatura Finlayson, sarebbe estinta. L'opera era, in pratica, compiuta. Hitchcock, l'assistente, arrivò al piccolo galoppo lungo il binario, su un cavallino cabuli con una rigida treccia per la coda, che a forza di abitudine, sarebbe stato capace di trottare con sicurezza sopra un traliccio. Fece con la testa un cenno di saluto al superiore. «Ci siamo?» disse con un sorriso. «Stavo pensando appunto a questo», rispose il capo. «Neanche un cattivo lavoro per due uomini, no? Uno e mezzo. Dio, che razza di pivello ero, arrivando al cantiere!» Hitchcock si sentiva molto vecchio, con la massa di esperienza degli ultimi tre anni che gli avevano insegnato il comando e la responsabilità. «Eravate un principiante, infatti», disse Finlayson. «Chissà quale effetto vi farà il ritorno al lavoro d'ufficio, terminato il compito qui». «Sarà detestabile», disse il giovanotto, e procedendo seguì con l'occhio allo sguardo di Finlayson, e mormorò. «Non è un bel lavoro, perbacco!» «Credo che faremo carriera insieme», disse Finlayson, come tra sé. «Siete un giovane troppo in gamba per sprecarvi con un altro. Eravate un pollastro, sarete assistente personale, e a Simla, per poco che la faccenda mi procuri qualche merito». Davvero, l'intero onere del lavoro era ricaduto su Finlayson e sul suo assistente, un giovanotto che egli aveva scelto apposta allo stato grezzo, per forgiarlo come occorreva a lui. Era una cinquantina di cottivisti, montatori e ribaditori, presi dalle officine delle ferrovie, e anche una ventina di dipendenti, bianchi o meticci, per sorvegliare sotto sorveglianza le squadre di operai. Ma nessuno sapeva meglio di quei due, nella loro reciproca fiducia, che non si può dare fiducia ai subalterni. Questi si erano varie volte trovati alla prova in circostanze critiche e improvvise. Slittamenti dei pali di sostegno, rottura di paranchi, ribaltamenti di gru, furie del fiume. Ma nessuna congiuntura aveva messo in luce un solo uomo al quale Finlayson e Hitchcock avrebbero fatto l'onore di un lavoro spietato come il loro. Finlayson passò mentalmente in rassegna quel periodo, cominciando dal principio. I mesi di lavoro a tavolino mandati di botto a rotoli, quando il governo dell'India, all'ultimo momento, aveva aggiunto 60 centimetri alla lunghezza del ponte, presumendo forse che i ponti si ritagliano nella carta. E così aveva distrutto almeno 20 metri quadrati di calcoli e Hitchcock, nuovo alla delusione, aveva nascosto il capo tra le braccia e pianto. Angosciosi ritardi nell'esecuzione dei contratti dall'Inghilterra, la vana lettera che adombrava una nauta provvigione se una certa unica fornitura a un poco dubbia veniva accettata. La lotta conseguente al rifiuto, l'ostruzionismo conseguente alla lotta, cortese ed accurato, all'altra cima, tanto che infine il giovane Hitchcock, aggiungendo un mese di licenza a un altro mese e facendosi dare da Finlayson altri dieci giorni, aveva speso le povere sue piccole economie di un anno in una puntata lampo a Londra e lì, come la sua lingua asseriva e le successive forniture comprovavano, mise il timor di Dio addosso a un pezzo così grosso che temeva soltanto il Parlamento e che disse questo finché Hitchcock non se lo fu lavorato addirittura a pranzo da lui ed egli allora temette il ponte di Casci e quanti parlavano in suo nome. C'era poi stato il colera arrivato al villaggio nottetempo e il vaiolo scoppiato dopo il colera. Quanto alla malaria non li aveva mai lasciati. Hitchcock era stato nominato magistrato di terza classe con facoltà giurisdizionale di frusta per il miglior governo della comunità e Finlayson lo aveva visto esercitare i propri poteri con prudenza e imparare su che cosa andava chiuso un occhio e a che cosa bisognava invece badare. Era lunga, lunghissima la rievocazione e includeva tempeste improvvise piene morte sotto ogni specie e forma rabbia spaventosa e violenta contro le scartoffie che fanno quasi dar di volta il cervello a chi è consapevole di avere da occuparsi di tutt'altro. Siccità, igiene, amministrazione nascita, matrimoni, funerali, risse in un villaggio con venti caste nemiche l'una all'altra discutere, rimproverare, supplicare e spesso andare a letto in compagnia di un trucce scoramento grati solo di avere il fucile smontato nella custodia. Sullo sfondo di tutto la nera struttura del ponte di Caci saliva lamiera per lamiera longarina per longarina e ogni suo pilone ricordava Hitchcock l'uomo onnipresente rimasto a fianco del suo capo senza venirgli mai meno dal principio fino a quel preciso istante. Il ponte dunque era opera dei due uomini a meno che non si volesse includere nel conto anche però come però stesso vi si includeva senza dubbio. Si trattava di un lascar un carva di bulsar di casa in tutti i porti di Rockhampton a Londra il quale era salito fino al grado di Serang sulle navi della British India ma stancandosi delle regolamentari assemblee e delle pulizie di vestiario aveva abbandonato il servizio recandosi all'interno dove uomini della sua fatta erano sicuri di trovare lavoro esperto di paranchi e della manovra dei grossi pesi però valeva quasi qualsiasi cifra volesse chiedere per i suoi servizi ma il salario dei capomastri era quello stabilito dall'uso e però rimaneva parecchi pezzi d'argento al di sotto del suo effettivo valore. Non lo turbava il lavoro in rapide acque correnti né a grandi altezze e in quanto ex Serang sapeva come ci si fa obbedire non esisteva pezzo di ferro tanto grande o in posizione tanto ardua che però, per alarlo, non riuscisse a descogitare un paranco un sistema di cavi mal rifinito sbolinato ordito con l'accompagnamento di una quantità scandalosa di chiacchiere ma perfettamente adatto alla bisogna era stato però a salvare la travata del pilone numero 7 dalla distruzione la volta che il cavo metallico nuovo si incastrò nell'occhio della gru e l'enorme trave si inclinò nelle sue ritenute minacciando di slittare per obliquo a questo punto gli operai indigeni avevano perso la testa mettendosi a urlare e Hitchcock col braccio destro spezzato dalla caduta di un ferro a T se lo era infilato nella bottonatura della giacca era svenuto, si era ripreso e per quattro ore era rimasto a dare ordini finché però, dalla cima della gru, riferì tutto bene e la trave altalenò fino al suo posto non ce n'era un altro come però il serang per dar volta, imbracare agguantare, azionare i motori ausiliari o capace di rialzare una locomotiva dal fondo di uno sterrato in cui si era ribaltata per spogliarsi e tuffarsi all'occorrenza a vedere come i blocchi di cemento intorno ai piloni reggevano allo strofinio di mamma Gunga e per avventurarsi controcorrente in una notte di monsone onde riferire sulle condizioni dei rivestimenti degli argini sul cantiere interveniva senza paura nei conciliabili tra Finlayson e Hitchcock e quando il suo sorprendente inglese o la sua ancora più sorprendente lingua franca per metà portoghese e per metà malese non bastavano più dava inevitabilmente di piglio a uno spago e mostrava i nodi che secondo lui occorreva fare comandava su una squadra di imbragatori tutto un misterioso parentado di Cucmandvi radunato un mese dopo l'altro e spremuto al massimo però non avrebbe mai mantenuto sul rollino di paga mani improduttive o una testa balorda per riguardi di famiglia o di tribù il mio onore è l'onore di questo ponte rispondeva all'uomo che stava per essere licenziato del tuo onore che cosa mi importa vattene a lavorare su un filoscafo non sei buona ad altro il piccolo agglomerato di capanne dove abitavano lui e la squadra faceva cerchio intorno alla malinconica dimora di un prete di mare un tale che non aveva mai messo piedi sull'acqua nera ma era stato scelto come guida spirituale da due generazioni di pirati tutti rimasti estranei alle missioni religiose dei porti o alle professioni di fede che certe agenzie sulle banchine del Tamisi tentano di rifilare ai marittimi il prete dei Lascar non aveva nulla in comune con la loro casta né, sai per questo, con altro mangiava le offerte dei suoi fedeli dormiva, fumava, tornava a dormire perché, diceva però il quale aveva personalmente provveduto a rimorchiarlo chilometri e chilometri all'interno è un uomo molto santo non gli importa niente di quel che tu mangi purché non mangi carne di bue e questo è bene perché noi, Carva, a terra veneriamo Siva ma in mare, sulle navi della Company dobbiamo stretta obbedienza agli ordini del Burra Malum il primo ufficiale e su questo ponte ci atteniamo a quello che dice Finleison Sahib e Finleison Sahib aveva ordinato quel giorno di togliere l'impalcatura alla torre di guardia della riva destra così però, con i suoi uomini stavano mollando e arriando pali ed assi di bambù con la rapidità stessa con cui un tempo scaricavano una nave di cabotaggio i colpi del fischietto d'argento del Serang giungevano sino al trolley col cigolio e lo schiocco delle carrucole però era in piedi sul più alto cornicione della torre con indosso la muta turchina del mestiere che aveva lasciato e quando Finleison mi fece un gesto per raccomandargli di stare attento poiché quella non era vita da buttar via egli diede di piglio all'ultimo palo e facendosi solecchio alla marinara rispose con il grido strascicato e lamentoso della vedetta del castello di prua I'm back the high sto allerta Finleison rise poi sospirò da anni non vedeva un piloscafo e aveva nostalgia della patria mentre il suo trolley passava sotto la torre però si calò lungo una corda alla maniera delle scimmie e gridò adesso sembra a posto Saeb il nostro ponte è fatto o quasi che cosa dirà mamma Gunga quando sopra passerà la ferrovia poco ha detto finora non è certo stata mamma Gunga a farci ritardare per essa è sempre tempo verità dove c'è stato non di meno il Saeb ha scordato la piena dello scorso autunno quando le chiatte del pietrame furono sommerse senza preavviso o con preavviso di mezza giornata soltanto sì ma nulla salvo un'inondazione in grande stile potrebbe danneggiarci adesso i contrafforti tengono bene sulla riva di Ponente mamma Gunga mangia grandi bocconi la pietra non è mai troppa sulle scarpate l'ho detto al ciota Saeb si riferiva a Hitchcock e lui ride non fa nulla però un altro anno potrai costruirti un ponte a modo tuo il lascarso ghignò non sarà di questo tipo allora con opera muraria affondata sott'acqua come affondò la quetta a me piacciono i ponti sospesi che volano da una riva all'altra in un solo gran balzo come palanche allora non c'è acqua che possa recardarlo quando viene il lord Saeb a inaugurare il ponte tra tre mesi quando farà più fresco aha è come il burramalum mentre si fa il lavoro lui sta da basso a dormire poi viene sul cassero tocca con un dito e dice qui è sporco brutto muso di scimmie ma il lord Saeb non mi chiama brutto muso di scimmia però già Saeb ma in coperta non sale finché il lavoro non è tutto finito anche il buddha malum del nord buddha disse una volta a tutti i corinne beh va ho da fare io anche disse però senza batter ciglio posso prendere adesso il battellino a remi e andare lungo le scarpate per sostenerle con le mani sono abbastanza massizze mi pare ma no Saeb è così in mare sull'acqua nera c'è spazio per andare in deronza di qua e di là senza stare a preoccuparsi noi qui non abbiamo neanche un poco di spazio guardate noi abbiamo messo il fiume in bacino incanalandolo tra parapetti di pietra Fildeson sorrisse al noi gli abbiamo messo il morso gli abbiamo messo le briglie non è come il mare che può battere contro la morbida spiaggia è mamma Gunga ai ferri aveva abbassato la voce però tu sei stato su e giù per il mondo anche più di me ora dimmi la verità quanto ci credi in cor tuo alla faccenda di mamma Gunga tutto quello che il nostro prete dice Londra è Londra Saeb Sidney è Sidney e Port Dervin è Port Dervin anche mamma Gunga è mamma Gunga e quando torno alle sue rive io so questo e adoro a Londra feci poi a nel grande tempio accanto al fiume in omaggio al dio che c'è dentro sì il battellino lo prenderò senza i cuscini Fildeson si mise in sella al suo cavallo e al trotto raggiunse la tettoia del bungalow che divideva con il suo assistente era diventato come casa sua quel posto nei tre anni trascorsi sotto quel tetto grezzo di paglia era andato arrosto nel caldo torrido aveva sudato nella stagione delle piogge aveva patito i brividi della febbre l'imbiancatura a calce di fianco alla porta era coperta di sommari schizzi e di formule e sul pavimento della veranda la copertura di stuoia mostrava come un sentiero di ronda la traccia delle sue diambulazioni solitarie non esiste giornata di otto ore nel lavoro di ingegnere e il pasto serale con Hitchcock fu consumato in stivali e speroni i sigari stettero ad ascoltare il brusio del villaggio dove stavano tornando le squadre dal letto del fiume e cominciavano a tremolare i lumi però se ne era andato lungo i contrafforti nel vostro battellino ha preso con sé un paio di nipoti e lui se ne sta adagiato a poppa come un commodoro disse Hitchcock non importa ha qualcosa in mente eppure dieci anni sulle navi della British India dovrebbero averlo svuotato un bel po' delle sue credenze e così è disse Hitchcock ridacchiando mi è capitato di udirlo un giorno faceva un discorso davvero e proprio ateo con quel loro vecchio guru grasso però negava l'efficacia della preghiera avrebbe voluto che il guru si imbarcasse per trovarsi con lui nel bel mezzo di una tempesta e vedere se è capace di fermare un monsone non di meno provate a portargli via il suo guru ci pianterebbe dritto sparato mi stava tirando fuori la storia che quando era a Londra ha rivolto preghiera alla cattedrale di San Paolo a me ha detto che la prima volta in cui entrò nella sala macchina di un piroscafo da ragazzo rivolse preghiera al cilindro a bassa pressione non sono poi cattive preghiera né in un caso né in un altro adesso sta propiziando le proprie divinità e vuol sapere che cosa ne penserà mamma Gunga di farsi attraversare da un ponte chi è un'ombra oscura l'inquadratura dell'uscio e nella mano di Hitchcock fu messo un telegramma ormai dovrebbe esserci quasi abituata sono un tar sarà la risposta di Ralli a proposito dei bulloni nuovi santo cielo Hitchcock era balzato in piedi che è disse il superiore e prese il modulo ecco che cosa pensa mamma Gunga disse leggendo sangue freddo giovanotto ti hanno preparato un bel lavoro vediamo un wir telegrafa mezz'ora fa pieno su Ram Gunga attenti beh questo ci lascia una due nove ore e mezzo perché la piena raggiunga la stretta di Malipur più sette fanno sedici e mezzo fino alla Todi diciamo quindici ore prima che ci piombi addosso al diavolo quella fogna di nevi del Ram Gunga Finlayson è in anticipo di due mesi su tutto quanto ci potesse aspettare e la sponda sinistra è ancora coperta di materiale due buoni mesi di anticipo proprio perciò accade conosco i fiumi indiani da 25 anni soltanto non posso pretendere di capire ecco che arriva un altro tar Finlayson aprì il telegramma Tokram questa volta dal canale del Gange qui pioggia e violente male poteva economizzare l'ultima parola ebbene non abbiamo bisogno di saperne altro dobbiamo mettere sotto le squadre tutta la notte e sgomberare il letto del fiume voi prenderete la riva sinistra e farete in modo di incontrarmi al centro tutto ciò che galleggia portatelo a valle del ponte avremo già più che a sufficienza a rottami che vengono giù col fiume senza lasciar che le chiatte del pietrame investano i piloni che cosa avete sulla riva orientale che occorrava darci il pontone quello grande che porta la gru a braccio altra gru a braccio sul pontone riparato con i ribattini della careggiata tra i piloni dal numero 20 al 23 due binari volanti e un argano le impalcature faranno quel che possono disse Hitchcock sta bene ritirate tutto quello su cui potete mettere le mani lascerete altri 15 minuti alle squadre che mangino un boccone c'era accanto alla veranda un grande gong per la notte che non si usava mai se non in caso di piena o di incendio al villaggio Hitchcock si era fatto portare un cavallo fresco ed era già in cammino verso il suo lato del ponte quando Finlayson prese la bacchetta fasciata di stoffa e picchiò con i colpi strascicati che ricavano dal metallo tutta la vibrazione assai prima che l'ultimo rombo cessasse ogni gongo notturno del villaggio aveva raccolto l'allarme vi si aggiunsero il rauco urlio delle buccine dei piccoli templi il battito di tamtam e tamburi e dal settore europeo in cui abitavano i ribaditori la tromba di McCartney arma d'offesa la domenica e nei giorni di festa squillò alla disperata il buttasella le macchine che rientravano dai contrafforti dopo il lavoro giornaliero risposero col fischio una dopo l'altra e i fischi dalla riva opposta risposero a loro volta poi il grande gong rombò tre volte ad indicare che di piena si trattava e non di incendio la buccina il tamburo il fischio fece l'equo al segnale e il villaggio tremò al calpestio di piedi nudi in corsa su terra molle la consegna per ogni evenienza era di raggiungere il posto di lavoro e attendere istruzioni le squadre uscivano a fiotti nel crepuscolo e c'erano uomini che si fermavano ad annodarsi lo straccio intorno alle reni o ad allacciare un sandalo capi squadra che gettavano gridi ai loro sottoposti che correvano sostavano a ritirare sbarre e picconi dalle rimesse degli attrezzi locomotive che avanzavano lentamente sulle rotaie in mezzo alla calca che era come una marea alta fino alle ruote infine il torrente di color bruno scomparve nell'oscurità del letto del fiume corse su per le impalcature sciamò lungo i tralicci si assiepò intorno alle gru e si fermò ogni uomo al proprio posto allora i colpi inquieti del gong trasmissero l'ordine di raccattare tutto e portarlo al di sopra del segnale di guardia delle piene e le lampade a fiamma svamparono a centinaia tra le strutture opache di ferro mentre i ribaditori davano inizio al lavoro della nottata in gara contro la piena che stava per giungere le travate dei tre piloni centrali quelle che poggiavano succa taste di sostegno erano pressoché a posto avevano soltanto bisogno di quanti più ribattini si riuscisse a fissarvi perché la piena avrebbe indubbiamente spazzato via i sostegni e le opere metalliche a non bloccarle alle estremità si sarebbero adagiate sulle incapsulature di pietra un centinaio di piedi di porco si affacendavano attorno alle traverse della linea provvisoria che era servita ad alimentare i piloni non ultimati essa veniva sollevata a sezioni caricata sui carri piatti e le locomotive sbuffanti la riportavano sulla riva al di sopra del livello di piena dinanzi all'assalto di schiere vociferanti le baracche degli arnesi sulla sabbia si volatizzarono e con esse scomparvero cumuli di rifornimenti governativi casse di ribattini cerchiate di ferro pinze cesoie pezzi di ricambio per bullonatrisi pompe di riserva catene la gru grande doveva venire trasferita per ultima perché stava alzando tutto il materiale pesante sopra la struttura principale del ponte i blocchi di calcestruzzo sulle chiatte furono gettati fuori bordo dove l'acqua era più profonda per proteggere i piloni dopodiché i barconi scarichi manovrando con le pertiche furono spostati sotto il ponte fino a valle lì trillava più forte il fischietto di però il primo colpo del grande gong aveva riportato indietro il battellino a velocità di gara e però con i suoi tutti a torso nudo lavoravano per l'onore e la stima che valgono più della vita sapevo che avrebbe parlato gridava io lo sapevo ma il telegrafo ha fatto bene ad avvertirci lo figlio di un connubio impensabile creatura di abiezione indicibile siamo forse qui per mostra mezzo metro di cavo di acciaio sfilacciato alle estremità era in funzione e faceva meraviglia in mano di però che balzava di frisata in frisata urlando nel gergo del mare i barconi del pietrame preoccupavano Phil Dyson più di tutto il resto McCartney con la sua squadra stava fissando le estremità delle tre campate insicure ma barconi alla deriva se la piena risultava molto alta potevano mettere in pericolo le travate e ce n'era addirittura una flotta quasi a secco nei rami minori del fiume portali a ridosso della torre di guardia gridò giù a però lì l'acqua farà remora portali a valle del ponte a ca benissimo lo so li ormeggiamo con cavo metallico fu la risposta beh senti ciotaseib come lavora veniva dal lato opposto del fiume un fischiare quasi ininterrotto di locomotive rincalzato da un brontolio di pietrame Hitchcock dedicava all'ultimo minuto qualche ulteriore centinaio di vagonate di pietra di tarachè a rinforzare contrafforti e scarpate il ponte sfida mamma gunga disse però con una risata ma io so quando essa parlerà quale voce suonerà più alta per ore gli uomini seminudi lavorarono tra grida e urli al lume delle lampade era una notte calda senza luna fu oscurata sul finire la nubia da una raffica improvvisa che resero Finlayson assai pensoso era vicina l'alba quando però disse si muove mamma gunga sveglia sentite chinandosi fuori bordo da una barca immerse una mano e intorno ad essa ci fu il mormorio della corrente una piccola onda colpì il fianco di un pilone con uno schiocco secco sei ore prima di quel che doveva disse Finlayson asciugandosi rabbiosamente la fronte ora non possiamo più fidarci di nulla meglio far sgomberare tutti gli operai dal letto del fiume di nuovo il rimbombo del grande gong e vi fu una seconda volta la corsa precipitosa di piedi nudi sulla terra e sul ferro risonante il clangore degli arnesi cessò in quel silenzio gli uomini udirono l'alido sbadiglio dell'acqua che strisciava su sabbie assetate uno dopo l'altro i capisquadra urlarono a Finlayson che aveva preso posto accanto alla torre di guardia che il letto del fiume nelle rispettive sezioni era stato evacuato e quando si spense l'ultima voce Finlayson avanzò in fretta sopra il ponte fin dove le lastre metalliche del piano stradale definitivo lasciavano il posto alla passerella provvisoria sopra i tre piloni centrali e lì incontrò Hitchcock tutto sgomberato dal vostro lato disse Finlayson il sussurro risonava nella cassa di tre lici sì e il braccio orientale attualmente si sta colmando siamo completamente fuori dal preventivo quando è che ci arriverà addosso la cosa non si può dire il fiume sale con tutta la rapidità di cui è capace guardate Finlayson puntò il dito verso il tavolato sotto i suoi piedi dove la sabbia arsa sporca per tanti mesi di lavoro cominciava a visbigliare e frizzare ordini disse Hitchcock fare l'appello contare i materiali mettervi tranquilli e pregare per il ponte non vedo altro buonanotte non andate a rischiare la vita cercando di ripescare qualcosa che se ne vada via con la corrente oh sarò prudente quanto voi notte tanto cielo come sale ed ecco sul serio la pioggia Finlayson rifece la via fino a riva dal suo lato sospingendo davanti a sé gli ultimi ribaditori di McCartney le squadre si erano sparpagliate lungo gli argini mancherò dalla pioggia fredda dell'alba e stavano lì ad aspettare la piena soltanto però continuava a tenere riuniti i suoi uomini dietro il saliente della torre di guardia dove i barconi del pietrame erano imbozzati su gherlini cavi metallici e catene lungo il fronte corse un gemito stridulo che si gonfiò sino a un grido in parte di paura in parte di stupore la superficie del fiume sbiancò da una riva all'altra tra le pareti di pietra e in lontananza i contraforti scomparvero tra spruzzi di spuma mamma Gunga era salita in gran furia fino a livello delle rive e un muro d'acqua color cioccolato l'annunciava uno strido lacerante sovrastò il ruggito dell'acqua era il lamento delle campate che portate via in un vortice le cataste di sostegno da sotto la loro pancia calavano sui ceppi d'arresto le chiatte scricchiolavano e cicolavano l'una contro l'altra nel risucchio che aggirava la spalla di muratura e i loro rozzi alberi salivano sempre più sulla linea indistinta dell'orizzonte prima che fosse chiusa tra queste muraglie sapevano che cosa avrebbe fatto ora che è così allo stretto solo il dio sa che cosa farà disse però osservando il furibondo ribollire intorno alla torre di guardia ehi picchia allora picchia sodo perché così una donna logora la propria resistenza però mamma gunga non si mise a picchiare come si augurava però dopo la prima irruzione nella valle non vennero altre muraglie di acqua ma la fiumana continuò a salire ingrossando come un serpente quando beve a mezza estate pizzicando e palpando le scarpate ammucchiandosi dietro le gettate così che fin leison si rimise persino a calcolare la forza di resistenza della sua opera quando si fece giorno il villaggio rimase a bocca aperta ancora la notte scorsa dissero gli uomini volgendosi l'uno all'altro c'era una città nel letto del fiume guarda adesso ed essi guardavano e tornavano a stupirsi dell'acqua profonda dell'acqua precipitosa che lambiva la gola dei piloni la riva opposta era avvolta in un velo di pioggia nel quale il ponte scompariva svanendo a monte solo vortici e spruzzi indicavano i contrafforti e a valle il fiume chiuso non più imbrigliato dagli arsini si era allargato come un mare fino all'orizzonte poi scesero rapidi rotolando nella corrente uomini e buoi morti alla rinfusa e di quando in quando un lembo di tetto di paglia che si dissolveva se toccava un pilone glossa piena disse però e fin le sono a noi la piena era più grossa di quanto mai avesse desiderato vederne il ponte avrebbe sostenuto ciò che gli era addosso ora ma non molto di più e se esisteva una probabilità su mille che nelle arginature ci fosse un punto debole mamma gunga avrebbe trascinato con sé l'onore di finlayson buttandolo in mare con gli altri relitti quel che è peggio non c'era nulla da fare solo star fermi ed egli rimase fermo nel suo impermeabile tanto che il casco divenne poltiglia sulla sua testa e i suoi stivali ebbero il fango fin sopra la caviglia non teneva il conto del tempo perché era il fiume a segnare le ore centimetro per centimetro decimetro per decimetro sulle scarpate ed egli intorpidito a digiuno tendeva l'orecchio al tormento delle chiatte al sordolombo sotto i piloni e gli altri centormori che costituiscono la piena voce di un'inondazione un servo sgocciolante gli recò una volta del cibo ma egli non riuscì a mangiare ed una volta credendo di udire al di là del fiume un debole fischio di locomotiva sorrisa un insuccesso del ponte non sarebbe stato dolore piccolo per il suo assistente ma Hitchcock era giovane col suo grande lavoro ancora da fare quanto a lui una catastrofe significava tutto tutto ciò per cui valeva la pena di aver vissuto una dura vita avrebbero detto quelli del mestiere ben ricordava le cose più o meno compassionevole che egli stesso aveva detto quando i grandi serbatoi di Lockhart erano scoppiati riducendosi a un mucchio di mattoni e fango e ogni coraggio si era spezzato in petto a Lockhart che ne era morto ricordava quello che egli stesso aveva detto quando il ponte di Sumau era stato portato via dal grande ciclone marino e soprattutto ricordava la faccia del povero Hartop tre settimane più tardi dopo che la vergogna lo aveva assegnato il suo ponte come dimensione era il doppio di quello di Hartop e vi era applicata non solo l'armatura Finlayson ma anche la nuova scarpa di pilone la scarpa di Chiavarda Finlayson non esistevano scusanti nella professione il governo magari poteva prestarvi ascolto ma i colleghi vi avrebbero giudicato dal ponte in quanto leggeva o cadeva tornò a passarlo in frassegna mentalmente trave per trave campata per campata mattone per mattone pilone per pilone ricordando confrontando valutando e ricalcolando che non ci fosse qualche errore e in quelle lunghe ore in quelle fughe di formule matematiche che gli ballavano e vorticavano davanti agli occhi una ghiacciante timore veniva a puggiargli il cuore dal canto suo indubbiamente il conto tornava ma chi sapeva niente dell'aritmetica di mamma Gunga proprio mentre egli si rassicurava con la tavola pitagorica il fiume poteva stare scavando marmitte precisamente in fondo ad uno qualsiasi di quei piloni di ventisette metri su cui posava la sua reputazione tornò un servo con qualcosa da mangiare ma egli aveva la bocca secca riuscì solo a bere e tornò a rigirare decimali nel cervello ed il fiume saliva ancora però avvoltolato in un mantello di stuoia stava ai suoi piedi accoccolato guardando alternativamente la sua faccia e la faccia del fiume ma senza dire nulla infine la scar si alzò e sguazzò nella melma verso il villaggio non senza avere avuto cura di lasciare un congiunto a sorvegliare i barconi presto fu di ritorno sospingendo dinanzi a sé con pochissima reverenza il prete della sua fede un vecchio grasso con una barba grigia che sferzava il vento in compagnia dello straccio bagnato svolazzante sulle sue spalle un guru più miserabile non si era mai visto a che cosa servono le offerte i piccoli lumi a petrolio e il grano secco urlò però se sei capace solo di startene a sedere nel fango per tanto tempo hai bazzicato con gli dei quando erano soddisfatti e benigni adesso sono in collera parla con loro che cos'è un uomo contro l'ira degli dei uggiolò il prete rannicchiandosi nel soffio di vento che lo coglieva lasciami andare al tempio e lì pregherò il dio di un porco prega qui nulla in cambio del pesce salato della polvere di curry delle cipolle secche grida forte dia mamma gunga che adesso basta ordina le di starsene tranquilla stanotte io non so pregare ma ho fatto servizio sulle nave di company e quando gli uomini non eseguivano i miei ordini io un mulinello del pezzo di cavo metallico completò la frase e il prete sfuggendo al discepolo corse verso il villaggio pezzo di maiale disse però dopo tutto quello che abbiamo fatto per lui finita la piena ci penso io a trovarci un nuovo guru il lesson saib si sta facendo notte e da ieri non avete mangiato siate ragionevole saib nessuno può resistere alla veglia e al gran pensare con la pancia vuota coricatevi saib il fiume farà quel che farà il ponte è mio non posso abbandonarlo lo terrete in piedi con le mani allora disse però ridendo ero in piena per i miei barconi e le mie bighe prima che arrivasse la piena ora siamo nelle mani degli dei il saib non intende mangiare o coricarsi prendete questi allora sono pietanze e un buon grog tutto insieme e ammazzano ogni stanchezza oltre la febbre che viene dopo la pioggia oggi io non ho mangiato nient'altro alla cintura fradice tirò fuori una piccola tabacchiera di latta e la ficcò in mano a Finlayson dicendo ma no non temete non è altro che oppio onesto oppio di malva Finlayson si fece cadere nel palmo della mano due o tre di quelle pallottoline marrone scuro e quasi senza sapere quel che faceva le ingoiò quella roba in ogni caso era una buona salvaguardia contro le febbre la febbre che gli saliva strisciante addosso dall'umido del fango e aveva visto che cosa era capace di fare però nelle soffocanti nebbi d'autunno in forza di una dose tratta dalla scatola di stagno però con gli occhi che brillavano fece un cenno di approvazione tra poco il saib si accorgerà che pensa di nuovo bene anch'io pescò nella sua preziosa scatola si riaggiustò la stuoia sul capo e si accoccolò a tener d'occhio i barconi faceva troppo buio ora per vedere più in là del primo pilone e la notte pareva avere dato forza al fiume Finlayson stava con il mento sul petto a pensare un punto a proposito di uno dei piloni il numero 7 non gli quadrava ancora in mente le cifre non volevano disegnarsi all'occhio se non ad una ad una e ad enormi intervalli di tempo aveva nell'orecchio il suono caldo e pastoso come la nota più profonda di un contrabbasso un suono affascinante sul quale rimase a riflettere per ore così gli sembrò poi però era al suo fianco e gridava che si era schiantato un ormeggio di acciaio e i barconi si erano sciolti Finlayson vide la flottiglia aprirsi e traversarsi a ventaglio con l'accompagnamento del lungo stridore dei cavi che strofinavano lungo i capi di banda gli ha colpiti un albero se ne andranno tutti gridò Perù si è spezzato l'ormeggio principale che cosa fai Saib alla mente di Finlayson era balenato all'improvviso un piano enormemente complesso vedeva le cime che correvano in linee ed angoli retti di barcone in barcone ogni cima una linea di fuoco incandescente ma c'era una cima che le comandava tutte la vedeva una volta alata quella era cosa assolutamente matematicamente certa che la flottiglia scompigliata si sarebbe radunata nell'acqua stagnante dietro la torre di guardia ma perché si chiese però gli si attaccava così disperatamente alla cintola mentre egli si affrettava giù per la riva era necessario scostare il lascar con bel modo e pianamente perché era necessario salvare i barconi e inoltre dimostrare l'estrema facilità del problema che pareva così arduo e poi ma questo non aveva la minima importanza ecco che un cavo d'acciaio filava nella sua mano scottandola l'altra riva scompariva e con essa tutti i fattori del problema che si sparpagliavano lentamente egli era seduto nella tenebra piena di pioggia seduto in un barcone che girava come una trottola e però era in piedi accanto a lui avevo dimenticato disse il lascar piano che a chi è digiuno e non è abituato l'oppio fa effetto peggio del vino quelli che muoiono in gunga vanno agli dèi non di meno non ho nessun desiderio di presentarmi a così importanti personaggi sa nuotare il sahib e a che scopo può volare volare svelto come il vento rispose egli con voce torbida è impazzito ha morborato a sé però e mi ha buttato da parte come un fastello di mattonelle di sterco beh non saprà di morire il barcone qui non riesce a stare a galla più di un'ora anche se non entra in collisione con niente non è bello guardare la morte con occhio limpido si servì ancora della scatoletta di latta per rinfrancarsi si accoccolò a prua di quello scafo roteante con gli occhi fissi attraverso la nebbia sul nulla che era lì una calda sonnolenza invadeva fin leisom l'ingegnere capo che aveva la responsabilità del suo ponte le grosse gocce d'acqua lo colpivano con mille piccoli fremiti tintinnanti e sulle palpebre gli gravava tutto il peso del tempo dei tempi sin dalla creazione pensava e constatava di essere perfettamente al sicuro perché l'acqua era solida tanto che un uomo poteva sicuramente uscire su di essa e stando ritto e fermo con le gambe un poco divaricate per tenere l'equilibrio questo era importante sarebbe stato portato a grande e comoda velocità fino a terra ma gli si presentò un proposito ancora migliore bastava soltanto uno sforzo di volontà e l'anima avrebbe scagliato il corpo a terra così come il vento travolge la carta l'avrebbe sospinto sulla riva al pari di un aquilone ma se il forte vento la barca girava su se stessa vertiginosamente si fosse inserito sotto il corpo lasciato in libertà questo si sarebbe innalzato come un aquilone per poi piombare la testa innanzi sulle distanti sabbie o sfuggito di mano avrebbe vagato barcollante per tutta l'eternità il leso si aggrappò alla frisata per ancorarsi perché pareva essere sul punto di prendere il volo prima di aver sistemato tutti i suoi piani l'oppio fa più effetto su un bianco che su un nero però non provava altro che una gradevole indifferenza per gli eventi non può rimanere a galla borbottò i cementi già si stanno aprendo se solo fosse stato un battellino a remi l'avremmo cavata fuori ma una cassa piena di buchi non va niente fin leson sahib fa acqua h io vado via vieni anche tu mentalmente fin leson ne aveva già lasciato la barca e stava volteggiando alto nel cielo in cerca di un punto d'appoggio per il suo piede il suo corpo e gli era davvero umiliato dalla goffa impotenza di quel corpo giaceva a poppa con l'acqua che gli si avventurava alle ginocchia che cosa profondamente ridicola disse tra sé dalle altitudini in cui stava quello è fin leson il capo del ponte di casci e quello stupido animale oltretutto sta per annegare annegare quando è vicino arriva io io sono già arriva perché non viene anche lui fu intensamente indignato di ritrovarsi con l'anima rientrata nel corpo e con quel corpo che annaspava e soffocava in acqua fonda la sofferenza del ricongiungimento fu atroce ma fu necessario lottare anche per il corpo si accorse che stava afferrandosi a della sabbia bagnata e che riusciva con passi portentosi come i passi che si fanno in sogno a non perdere piede nell'acqua turbinante finché da ultimo si strappò alla presa del fiume e cadde ansante sulla terra umida non stanotte disse al suo orecchio però i dei ci hanno protetti il lascar posava con cautela i piedi che frusciavano tra sterpi deve essere un'isola in cui hanno raccolto l'indaco l'anno scorso proseguì non troveremo uomini qui ma fate molta attenzione Saib la piena ha cacciato fuori tutti i serpenti su centocinquanta chilometri ecco i lampi alle calcagna del vento ora potremo vedere ma state attento a camminare Fai Lyson era molto molto più in là di ogni timore di serpenti e in vero di ogni emozione puramente umana toltasi l'acqua dagli occhi sfregandogli e gli vedeva con enorme chiarezza e camminando faceva o così gli sembrava passi impetuosi che valicavano il mondo e gli aveva costruito un ponte nella notte dei tempi da qualche parte un ponte gettato su distese infinite di scintillante mare ma il diluvio lo aveva spazzato via lasciando sotto il cielo quell'unica isola per Fai Lyson e il suo compagno unici sopravvissuti del genere umano un lampeggiare ininterrotto ramificato e livido mostrava tutto quello che c'era da vedere su quella macchiolina in mezzo all'inondazione un folto di rovi una macchia di bambù oscillanti e scricchiolanti e un grigio e nodoso pipul che dava ombra a un tempietto indù sulla cui cupola sventolava una bandiera rossa sbrindellata il santone che vi aveva avuto il suo luogo di ritiro estivo l'aveva abbandonato da lungo tempo e le intemperie avevano sgretolato l'immagine del suo dio i due uomini con le gambe e gli occhi pesanti inciamparono nelle cene di un focolare di mattoni e si lasciarono cadere al riparo dei rami mentre pioggia e fiume ruggivano all'unisono gli steli mozzi dell'indaco crepitarono si sentì l'odore di bestiame mentre un enorme e gocciolante toro braminico si apriva con le spalle la strada fin sotto l'albero i lampi rivelavano il segno del tridente di Siva sul suo fianco l'arroganza della sua testa e della gobba i luminosi occhi la fronte coronata da una ghirlanda di fiori di calendula inzuppati e la serica giogaia che quasi sfiorava il suolo dietro ad esso si udì il rumore di altre bestie che risalivano dal livello di piena attraverso la boscaglia un rumore di piedi pesanti e un profondo ansimare devono esserci altri qui oltre a noi disse Fine Laison con la testa appoggiata al tronco dell'albero guardando attraverso le palpebre socchiuse interamente a suo agio davvero disse però con voce indistinta e non sono da poco chi dunque io non vedo bene gli dei chi altro guardate ah è vero gli dei certo gli dei Fine Laison sorrise mentre la testa gli ricadeva sul petto però aveva perfettamente ragione dopo l'inondazione chi doveva essere vivo nel paese salvo gli dei che lo avevano creato gli dei che il suo villaggio invocava ogni notte gli dei che erano sulle bocche di tutti gli uomini sulle strade di tutti gli uomini egli non era in grado di alzare la testa o di muovere un dito per via del rapimento che lo aveva colto e però rivolgeva un vacuo sorriso ai lampi il toro il toro e la sua testa si abbassò al suolo umido fra i rami un pappagallo verde si risciò col becco le penne bagnate e strillò contro il tuono mentre mobili ombre di animali riempivano lo spiazzo sotto l'albero dietro il toro c'era un antilope nera un maschio quale Fildaison nella sua remota vita terrestre forse aveva visto in sogno un antilope con la testa regale dorso di ebano ventre argentio e risplendenti corna dritte accanto ad essa quel capo teso al suolo con i verdi occhi che fiammeggiavano nelle orbite profonde con la coda inquieta che frustava l'erba secca veniva una tigre dal ventre gonfio e dalla guancia cascante il toro si accostò accanto al tempietto ed ecco balzar fuori dall'oscurità una mostruosa scimmia grigia che sedette in posa umana al posto del simulacro crollato e le stille di pioggia le sgocciolavano come gemme al pelame del collo e delle spalle altre ombre andavano e venivano alle spalle del cerchio e fra esse un uomo che brandiva un bordone e una fiasca poi un muggerauco e ruppe dalla sua terra già adesso la piena diminuisce gridò di ora in ora l'acqua cala e il ponte è ancora su il mio ponte disse finlayson fra sé deve essere un'opera molto antica ormai che c'entrano gli dèi col mio ponte i suoi occhi si volsero nel buio guidati dal muggio un coccodrillo il mugger del gange del muso smussato frequentatore dei guadi si trascinò fin davanti agli animali e frustava furiosamente a destra e a sinistra con la coda l'hanno costruito troppo forte per me in tutta questa notte non ho strappato che un pugno di tavole i muraglioni sono in piedi le torri sono in piedi hanno imprigionato la mia corrente e il mio fume non è più libero o celesti togliete questo gioco datemi acqua libera tra riva e riva sono io mamma gunga che parlo giustizia degli dei mi appello alla giustizia degli dei che cosa avevo detto io mi sbigliò però questo è realmente un punciaiette degli dei ora sappiamo che tutto il mondo è morto meno voi ed io saib di nuovo il pappagallo stridette e sbatté le ali e la tigre con gli orecchi piatti sul cranio ringhiò malvagiamente in qualche luogo nell'oscurità una grande proboscide e balenanti zanne dondolarono e un gorgoglio sommesso ruppe il silenzio che era seguito al ringhio siamo qui disse una voce profonda noi i grandi uno solo e moltissimi shiv mio padre è qui con indra khali ha già parlato anche amman ascolta kashi è senza il suo kotwal stanotte credo all'uomo dalla fiasca scagliando il bordone al suolo mentre l'isola risonava di latrati di cani da caccia datele la giustizia degli dei voi rimaneste immobili quando essi contaminarono le mie acque urlò rabbioso il grande coccodrillo voi non faceste un solo gesto quando il mio fiume fu intrappolato fra i muraglioni non ebbe aiuto se non dalla mia forza e non bastò la forza di mamma ed essi non smisero un asino macilento dal naso fesso azzoppato con le zampe storte piagato si fece innanzi claudicando io ho soffiato su loro la morte delle mie narici ma essi non smisero però si sarebbe alzato ma l'oppio pesava su di lui puah fece sputando ecco sitala in persona mata il vaiuolo il said ha un fazzoletto per metterselo sulla faccia aiuto da poco mi alimentarono per un mese di cadaveri e io li scaraventai sulle mie barre di sabbia ma il loro lavoro procedette demoni sono e figli di demoni e voi avete lasciato sola mamma gunga a farsi schernire dai loro carri di fuoco giustizia degli dei sui costruttori di ponti il toro voltò in bocca il bolo e rispose lentamente se la giustizia degli dei colpisse tutti coloro che scherniscono le cose sacre ci sarebbero molte aree spente nel paese madre ma questo va oltre lo scherno disse la tigre protendendo la zampa rapace tu lo sai shiv voi anche celesti voi sapete che gli uomini hanno profanato gunga questa cosa è certo di competenza del distruttore giudichi indra senza il minimo movimento l'antilope rispose da quanto dura il male tre anni al modo in cui gli uomini contano gli anni rispose il mugger appiattito al suolo madre gunga muore dunque in un anno che è tanto ansiosa di avere oggi stesso vendetta ancora ieri dove essa scorre sarà il mare e nuovamente il mare la coprirà domani secondo il modo che hanno gli idee di contare ciò che gli uomini chiamano tempo chi può dire che questo loro ponte duri sino a domani disse l'antilope ci fu un lungo silenzio e placatosi il temporale la luna piena parve alta sopra gli alberi stillanti giudicate voi dunque disse torvo il fiume io ho detto la mia vergogna la mia piena continua a calare io non posso fare di più per parte mia parlava la grande scimmia seduta nel tempietto mi piace molto osservare cotesti uomini ricordando che anch'io costruì un ponte che non era da nulla quando il mondo era giovane si dice anche ringhiò la tigre che cotesti uomini provengano dalla rovina delle tue schiere Anuman e che perciò tu hai aiutato esse faticano come le mie schiere faticarono a Lanka e credono che la loro fatica durerà Indra sta troppo in alto ma tu Shiv sai come i loro carri di fuoco seguino tutto il paese si lo so disse il toro su questo argomento i loro dei li istruiscono una risata corse tutto intorno i loro dei che cosa vuoi che sappiano i loro dei sono nati ieri e coloro che li crearono non sono ancora freddi disse il mugger domani i loro dei saranno morti disse Perù madre Gunga parla bene io ho detto la stessa cosa al padre sahib che predicava sul Mombasa e lui chiese al Burramalum di mettermi ai ferri per grave insolenza ma se fanno queste cose è certo per piacere ai loro dei riprese il toro niente affatto esseri con enfasi l'elefante e approfitto dei miei maaium dei miei grassi usurai che mi venerano ad ogni anno nuovo quando disegnano la mia immagine in testa ai loro registri io guardando da sopra la loro spalla alla luce della lampada vedo che i nomi nei registri sono di persone in luoghi lontani e tutte le città sono riunite dal carro di fuoco e il denaro viene e va rapidamente e i registri diventano grossi come me e io che sono Ganesh della buona fortuna io benedico le mie genti essi hanno mutato il volto del paese che è il mio paese hanno ucciso e creato nuove città sulle mie rive disse il mugger non è che lo spostamento di un po' di fango lasciate che il fango scavi nel fango se così piace al fango disse l'elefante ma poi disse la tigre poi essi vedranno che mamma Gunga non può vendicare gli insulti e da prima trascureranno lei e poi tutti noi uno dopo l'altro alla fine Ganesh noi resteremo con gli altari nudi l'uomo ubriaco si alzò barcollando con un violento singutto in faccia all'assemblea degli dei Calì mentisce mia sorella mentisce questo è il mio bordone inoltre è il cottoal di Cashi e le tacche segnate tengono conto dei miei pellegrini quando è tempo di venerare Bayron ed è sempre tempo i carri di fuoco si muovono ad uno ad uno e ciascuno trasporta mille pellegrini questi non vengono più a piedi ma correndo sulle ruote e la mia gloria è fatta più grande Cunga Apriag io ho visto il poletto nero di pellegrini disse la cimmia protendendosi e se non fosse stato per il carro di fuoco sarebbero venuti più lentamente e meno numerosi ricorda essi vengono a me sempre continuò Bayron con voce impastata mi prega giorno e notte la gente comune dei campi e delle strade chi è simile a Bayron oggi che cosa sono queste ciarle di credenze che cambiano il mio bastone è il cotval di casci per nulla esso tiene i conti e dice che non ci sono mai stati tanti altari quanti ce ne sono oggi e che il carro di fuoco gli serve bene Bayron io sono Bayron della gente comune e il supremo fra i ceresti di oggi e dice inoltre il mio bordone silenzio tu mugi il toro la venerazione delle scuole è mia e vi si parla con grande dottrina e ci si chiede se io sia uno o molti secondo il desiderio della mia gente e voi sapete che cosa io sia Calì moglie mia anche tu lo sai sì lo so disse la tigre che abbassò il capo io sono anche più grande di Gunga poiché voi sapete chi mosse l'animo degli uomini a ritenere Gunga un fiume sacro fra tutti chi muore in quell'acqua voi sapete come dicono gli uomini viene a noi senza punizione e Gunga sa che il carro di fuoco ha portato a lei folle e folle di uomini ansiosi di questo e Calì sa di avere solennizzato le sue più grandi feste in mezzo ai pellegrinaggi alimentati dai carri di fuoco a Poré sotto l'immagine che vi si trova chi se ne falciò delle migliaia in un giorno e una notte e legò la malattia alle ruote dei carri di fuoco affinché corresse da un capo all'altro del paese chi se non calì prima che ci fosse il carro di fuoco questa era una gran fatica i carri di fuoco ti hanno servito bene madre della morte ma parlo per i miei altari io che non sono bailon della gente comune ma Shiv i uomini vanno e vengono fabbricando parole e favoleggiando di strani idee e io ascolto credenza segue a credenza tra la mia gente delle scuole e io non me ne adonto perché quando le parole sono state dette e una nuova favola è finita i uomini per ultimo tornano a Shiv è vero murmurò Anuman a Shiv e agli altri madre e si tornano io mi propago di tempio in tempio nel nord dove si venerano un solo dio e il suo profeta e la mia immagine non tarda ad essere la sola nei loro templi c'è poco da ringraziarti disse l'antilope volgendo lentamente il capo io sono quell'uno e anche il suo profeta proprio così padre disse Anuman e al sud vado io che sono il più antico degli dei secondo il modo in cui gli uomini conoscono gli dei e tosto tocco gli altri della nuova fede e la donna che noi conosciamo è scolpita con dodici braccia e ancora lo chiamano Maria c'è poco da ringraziarti fratello disse la tigre io sono quella donna proprio così sorella e vado ad ovest tra i carri di fuoco e mi presento ai costruttori di ponti in molte forme e per me mutano le loro fedi e sono molto saggi io in verità sono il costruttore di ponti ponti fra questo e quello e ogni ponte porta inevitabilmente a noi per ultimo accontentati Gunga né questi uomini né quelli che li seguono ti scherniscono minimamente io sono sola dunque o celesti ho da affrettarmi ad attenuare la mia pena che per sventura non mi capiti di trascinare via le loro muraglie indra intende inaridire le mie sorgenti tra i monti e farmi strisciare umilmente fra le loro scarpate debbo seppellirmi nella sabbia prima che io le chiedanno tutto ciò a causa di una sottile verga di ferro col carro di fuoco sopra in verità mamma Gunga è sempre giovane disse Ganesh l'elefante un bambino non avrebbe parlato più scioccamente lascia che il fango scavi il fango prima di tornare fango io so soltanto che la mia gente si arricchisce e mi loda Shif ha detto che gli uomini delle scuole non dimenticano Byron è soddisfatto della sua gente comune e Anuman ride certo che rido disse la scimmia i miei altari sono pochi accanto a quelli di Ganesh o di Byron ma i carri di fuoco mi portano nuovi adoratori che vengono di là dall'acqua nera gli uomini che credono loro dio la fatica io corro davanti a loro facendo cenno ed essi seguono Anuman da loro la fatica che desiderano allora disse il fiume forma una barra di sabbia attraverso la mia piena e respingi l'acqua addosso al ponte un tempo a Lanca tu fosti forte Anuman chinati e solleva il mio letto chi dà vita può togliere vita la scimmia grattò nella mota col lungo indice eppure chi avrebbe vantaggio dallo sterminio sarebbero moltissimi a morire dalla parte dell'acqua salì un frammento di canzone amorosa una di quelle che i giovani cantano custodendo l'armento nelle calure meridiane della tarda primavera il pappagallo gridò gioiosamente spingendosi lateralmente lungo il ramo a testa bassa via via che il canto si faceva più forte e in una chiazza del chiardiluna apparve il giovane pastore il beniamino di Gopis l'idolo delle fanciulle sognanti e delle madri in attesa di figli Krishna il bene amato egli si curvò per annodare i suoi lunghi capelli umidi e il pappagallo svolazzò fin sulla sua spalla girovagare e cantare cantare e girovagare disse con un singulto Bayron questo ti fa giungere tardi al concilio fratello e allora disse Krishna con una risata gettando indietro il capo poco potete fare senza di me o senza il nostro karma accarezzò il piumaggio del papagallo e rise di nuovo perché siete qui adunati a parlare ho udito rumorezzare nel buio mamma Gunga e perciò mi sono affrettato a venire da una capanna dove stavo nel tepore e che cosa avete fatto a karma che è così bagnato e silenzioso e che cosa fa qui mamma Gunga sono forse colmi i cieli che dovete venire sguazzando nel fango come le bestie karma che cosa stanno facendo Gunga ha invocato vendetta sui costruttori di ponti e Calì è dalla sua ora essa chiede a Anuman di inghiottire il ponte affinché il suo onore sia grande strillò il papagallo ho atteso qui sapendo che saresti venuto o mio signore e i celesti non hanno detto nulla Gunga è la madre dei dolori li hanno ridotti al silenzio nessuno ha parlato in favore del mio popolo ma sì disse Ganesh appoggiandosi imbarazzato ora su un piede ora sull'altro io ho detto che si trattava soltanto di fango che gioca perché dunque dovremmo calpestarlo e schiacciarlo io mi sono dichiarato contento di lasciarli faticare molto contento disse Anuman come c'entravo io con la collera di Gunga disse il toro io sono Bayron dell'agente comune e questo mio bastone è il cotval di tutta Cashi io ho parlato a favore dell'agente comune tu gli occhi del giovane Dio lampeggiarono non sono forse il primo degli dei sulle loro labbra oggi ribatte Bayron imperterrito per amore dell'agente comune io ho detto moltissime cose sagge che ora ho dimenticate ma questo mio bordone Krishna si volse spazientito scorsa il mugger ai suoi piedi e inginocchiato si gli passò un braccio intorno al collo di accio madre disse con dolcezza torna alla tua piena queste cose non sono per te qual danno potrebbe arrecare al tuo onore cotesto fango vivente di anno in anno tu hai rinnovato i loro campi e la tua piena li ha resi forti alla fine verranno tutti a te quale bisogno c'è di ucciderti ora abbi pietà madre per poco è solo per poco se è solo per poco cominciò l'ottusa bestia sono forse dei replicò Krishna con un riso e con gli occhi fissi negli occhi del fiume si è certa che è solo per poco i celesti ti hanno ascoltata e presto giustizia sarà fatta ora madre ritorna alla piena le acque sono fitte di uomini e bestiame le rive crollano i villaggi si sfasciano per operatua ma il ponte il ponte è in piedi il munger strisciò grugnendo nel sottobosco mentre Krishna si rialzava è finita disse la tigra indispettita non c'è più giustizia da parte dei celesti avete fatto di gunga vergogna e trastullo eppure chiedeva appena qualche decina di vite della mia gente che riposa sotto i tetti di foglie del villaggio laggiù delle fanciulle e dei giovani che cantano per le fanciulle nel buio del bambino che nascerà il prossimo mese di quello che è stato concepito stanotte disse Krishna e quando tutto fosse fatto qual pro il domani li rivedrà all'opera si spazzassimo pur via il ponte dall'una all'altra cima ricomincierebbero di nuovo ascoltami bailon è sempre ubriaco hanuman beffa la sua gente con nuovi enigmi ma che sono antichissimi disse la scimmia ridendo shiv ascolta i discorsi delle scuole e i sogni dei santoni ganesh non pensa che ai suoi grassi trafficanti ma io io vivo con questa mia gente senza chiedere doni e perciò ricevendone ad ogni ora e sei pure molto tenero con la tua gente disse la tigre è mia le vecchie mi sognano rigirandosi nel sonno le ragazze spiano e porgono l'orecchio semmai io sia presente quando vanno a riempire i loro lotà al fiume io cammino fra i giovani che attendono fuori della porta al crepuscolo e oltre la spalla mando una voce alle barche bianche voi sapete o celesti che fra tutti noi io solo cammino di continuo sulla terra e i vostri cieli non hanno attrattive per me finché qui spunta una foglia verde o nel crepuscolo ci sono due voci fra le messe ancora ritte voi siete saggi ma vivete assai lontani dimenticando donde proveniste così invece io non dimentico i carri di fuoco alimentano i vostri templi voi dite i carri di fuoco portano mille pellegrini là dove in passato ne venivano solo dieci è vero questo è vero oggi ma domani saremmo morti fratello disse ganesh silenzio disse il toro poiché anuman si protendeva di nuovo e domani amato che ne sarà del domani solo questo una parola nuova propagandosi lentamente di bocca in bocca fra la gente comune una parola di cui né uomo né dio può impadronirsi una parola funesta una indolente paroletta tra quelli della gente comune e dirà senza che alcuno sappia chi primo ha messo in giro la voce che sono stanchi di voi o celesti i dei risero tutti insieme piano e poi amato dissero e per nascondere quella stanchezza e sì la mia gente da prima porteranno a te shiv e a te ganesh offerte più grandi e un più alto l'amore di venerazione ma la parola si sarà diffusa e in seguito pagheranno minore tributi ai vostri grassi bramini quindi dimenticheranno i vostri altari però con tanta lentezza che nessuno saprà dire come sia cominciato il loro oblio lo sapevo lo sapevo io ho detto le stesse cose ma non hanno voluto darne ascolto disse la tigre avremmo dovuto uccidere avremmo dovuto uccidere è troppo tardi adesso in principio avreste dovuto uccidere prima che gli uomini venuti da oltre il mare insegnassero qualcosa ai nostri ora la mia gente vede l'opera loro e se ne va pensosa non pensa affatto ai celesti pensa al carro di fuoco e alle altre cose fatte dai costruttori di ponti e quando i vostri preti tendono la mano chiedendo oboli la gente da poco di malavoglia questo è l'inizio tra uno o due o cinque o dieci uomini perché io che cammino in mezzo alla mia gente so che cosa c'è nel suo cuore e la fine canzonatore degli dei quale sarà la fine domandò Ganesh la fine sarà come il principio o pigro figlio di Shiv la fiamma si spegnerà sulle aree e la preghiera sulle labbra finché non diverrete piccoli dei di nuovo dei della giungla nomi sussurrati nella boscaglia nelle caverne dai cacciatori di topi e dagli accalappiacani fetici idoletti del cavo dell'albero in segna di villaggio come eravate alle origini ecco la tua fine Ganesh e la tua Bairon Bairon della gente comune è una cosa molto lontana brontolo Bairon inoltre è una bugia molte donne hanno baciato Krishna tutto ciò glielo hanno raccontato loro per confortarsi il cuore all'arrivo dei capelli grigi ed egli ha raccontato a noi la stessa favola disse il toro mezzavoce i loro dai sono venuti e li abbiamo trasformati la donna l'ho presa e le ha dato dodici braccia così traviseremo tutti i loro dai disse Anuman i loro dai qui non si tratta dei loro dai uno o trino maschio o femmina si tratta della gente essa si muove non gli dai portati dai costruttori di ponti disse Krishna così sia ad un uomo io ho fatto rivolgere preghiere al carro di fuoco fermo e fumante e quell'uomo non sapeva di adorare me disse Anuman la scimmia essi cambieranno un po' nome ai loro dai solamente io guiderò i costruttori di ponti come sempre Shiv sarà venerato nelle scuole da quelli che dubitano e disprezzano i propri simili Ganesh avrà i suoi maion e Bayron gli asinai i pellegrini i venditori di giocattoli bene amato essi non faranno altro che cambiare i nomi ed è cosa che abbiamo veduto mille volte certo non faranno altro che cambiare i nomi fece è già cominciato il principio della fine i carri di fuoco gridano i nomi dei nuovi dei che non sono i vecchi sotto nomi nuovi ora bevete e mangiate assai bagnate i vostri volti nel fumo delle aree prima che diventino fredde raccogliete i tributi e porgete orecchio ai cimbali e ai tamburi ceresti finché ci sono ancora fiori e canti nel modo in cui gli uomini misurano il tempo la fine è ancora molto lontana come sappiamo calcolarlo noi la fine è oggi ho detto il giovane dio tacque e a lungo i suoi fratelli rimasero a guardarsi l'un l'altro in silenzio questa mi torna nuova bisbigliò però all'orecchio del suo compagno però a volte lubrificando le bronzine nella sala macchina del goorca mi sono chiesto se i nostri profeti fossero tanto sapienti tanto sapienti viene giorno Saib col mattino spariranno una luce gialla si allargò nel cielo e il timbro del fiume mutò col ritirarsi delle tenebre l'improvviso l'elefante strombazzò forte come se un uomo lo avesse pungolato che Indra giudichi padre di tutti parla tu che cosa ne pensi di quanto abbiamo udito Krishna ha mentito realmente oppure voi sapete disse l'antilope alzandosi voi sapete l'enigma degli dei quando Brahm cessa di sognare i cieli e gli inferi e la terra scompaiono state tranquilli Brahm sogna ancora Krishna ha camminato troppo a lungo sulla terra eppure lo amo ancora di più per la favola raccontata i dai cambiano veni amato tutti salvo uno si tutti salvo uno che mette amore nel cuore degli uomini disse Krishna annodando la cintura basta aspettare un poco e saprete se ho mentito basta aspettare un poco in verità come tu dici e noi tutti sapremo torna alle tue capanne veni amato e reca gioia ai giovani perché Brahm sogna ancora andate figli miei Brahm sogna e fino al suo risveglio i dai non muoiono da dove se ne sono andati disse la scar sballordito rabbrivedendo un poco per il freddo lo sa Dio disse Feindleison ora il fiume e l'isola erano nella piena luce del giorno e non vi era impronta di zoccoli o orma di belva nella terra molle sotto il pipul soltanto un pappagallo strillava fra i rami facendo cadere rovesci di gocce d'acqua nell'agitare le ali su siamo intiliziti dal freddo è passato l'effetto dell'oppio potete muovervi Saib Feindleison si alzò barcollando e si scrollò la testa gli vacillava e gli doleva ma l'azione dell'oppio era cessata ed essendosi bagnata la fronte in una pozza l'ingegnere capo del ponte di Casci si chiese come era arrivato all'isola quali probabilità di ritorno recasse il giorno e soprattutto come stava la sua opera però ho dimenticato molte cose ero al piede della torre di guardia ad osservare il fiume e poi ci ha travolti l'inondazione no le barche hanno strappato gli ormeggi Saib e se il Saib aveva dimenticato l'oppio però era deciso a non ricordargelo mentre si tentava di ormeggiarle di nuovo mi è parso ma era buio che un cavo colpisse il Saib e lo rovesciasse in una barca dato che noi due con Hitchcock Saib abbiamo si può dire costruito il ponte saltai anch'io nella barca che è venuta di galoppo si può dire alla punta di quest'isolotto e andando in pezzi ci ha buttati a riva ho gridato forte quando la barca lasciò la banchina e senza dubbio Hitchcock Saib verrà a cercarci quanto al ponte è morta tanta gente nel costruirlo e non può cadere un sole feroce che estraeva tutto l'odore della terra acquittrinosa era succeduto alla tempesta e in quella luce chiara non c'era posto per ripensare ai sogni delle tenebre Finlayson guardava fisso a monte oltre l'abbaglio dell'acqua in movimento fino a farsi dolere gli occhi non si scorgeva traccia delle sponde del gange e tantomeno della linea di un ponte siamo scesi parecchio disse è un miracolo che non siamo annegati cento volte è la parte minore del miracolo poiché nessuno muore prima del suo tempo io ho visto Sydney ho visto Londra e venti grandi porti ma però guardò il tempietto bagnato e stinto sotto il pipul non ve uomo che abbia visto ciò che qui abbiamo visto che cosa mi saiba ha dimenticato oppure soltanto noi neri vediamo gli dei avevo un accesso di febbre Fintleison continuava a spingere lo sguardo ansiosamente sulle acque mi è parso che l'isola fosse piena di bestie e uomini che parlavano ma non rammento in quest'acqua adesso una barca può rimanere a galla mi pare allora è vero se Bram cessa di sognare gli dei muoiono adesso so veramente ciò che voleva dire una volta anche me lo aveva detto il guru ma allora non capì adesso ho imparato che cosa disse Fintleison senza voltarsi però proseguì come parlando a se stesso sei sette dieci monsoni fa ero di guardia sul castello di prua del Reuvoir la nave più importante della company e c'era un grande tufan l'acqua verde e nera ci sbatteva e io mi tenevo forte al passerino boccheggiando sotto le ondate allora pensai agli dei a coloro che vedemmo stanotte esplutò con curiosità il dorso di Fintleison ma il bianco spingeva lo sguardo sulla piena sì dico a coloro che vedemmo la scorsa notte e li invocai che mi proteggessero e mentre pregavo sempre stando in vedetta venne un maroso e mi scaraventò avanti sull'anello della grande ancora nera di prua e il Reuvoir salì sempre più in su facendo una sbandata a sinistra e l'acqua si ritirò da sotto l'estrema prora e io rimasi steso sulla pancia afferrato all'anello e guardando giù in quelle grandi profondità allora pensai di faccia alla morte stessa che se mollavo morivo e per me né il Reuvoir né il mio posto accanto alla cambusa dove si cuoce il riso né Bombay né Calcutta neppure Londra sarebbero più esistiti per me come posso essere certo dissi che gli dèi ai quali rivolgo la mia preghiera se ne preoccuperanno minimamente questo pensai e il Reuvoir si abbatté con l'estrema prora come cadde un martello e tutto il mare venne a bordo e mi trascinò all'indietro lungo il castello di prua e dall'alto di questo in coperta e mi ammaccai malamente uno stinco contro la macchina del verricello ma non sono morto ed ho visto gli dèi sono buoni per i viventi ma per i morti l'hanno dichiarato essi stessi perciò quando arrivo al villaggio picchierò il guru che va cantando enigmi che non sono enigmi quando bram smette di sognare gli dèi se ne vanno guarda monte la luce è cieca non c'è fumo laggiù perù fece solecchio con le mani che uomo accorto e pronto hitchcock saib non si è fidato di una barca a remi si è fatto prestare l'arancia a vapore del rao saib e viene a cercarci io ho sempre detto che in cantiere occorreva una lancia a vapore il territorio del rao di baraon era a 16 chilometri dal ponte una parte dello scarso tempo libero finleison e hitchcock l'avevano trascorsa giocando a biliardo o andando a caccia di antilo peniere con il giovane principe questi era stato affidato per 5 o 6 anni a un istitutore inglese di gusti sportivi e ora stava regalmente dilapidando le rendite accantonate durante la sua minore età dal governo indiano la sua lancia a vapore con la battagliola argentata la tenda di seta a strisce e i ponti di mogano era un nuovo trastullo che finleison si era molto infastidito di avere fra i piedi allorché il rao veniva in visita al cantiere gran fortuna mormorò finleison ma era ugualmente pieno di paura chiedendosi che nuove potessero esserci del ponte lo sgargiante fumaiuolo bianco e azzurro si avvicinava a vista d'occhio scendendo la corrente i due uomini i due uomini videro Hitchcock a prua armato di binocolo col viso eccezionalmente pallido allora però gettò un grido e l'arancia fece prua sull'isolotto il rao sahib intenuta da caccia di tweed e turbante di sette colori agitò la sua mano regale e Hitchcock gridò ma non ebbe bisogno di chiedere nulla perché la prima domanda di finleison fu per il suo ponte tutto bene dio non speravo più di rivedervi finleison siete sette cos a valle sì non si è mossa una pietra in nessun punto ma come state mi sono fatto prestare la lancia del rao sahib il quale ha avuto la bontà di venire con noi saltate a bordo ah finleison state proprio bene era un flagello senza precedenti la notte scorsa il mio palazzo reale anche lui fa un'acqua del diavolo eppure il raccolto sarà scarso su tutto il mio territorio ora la ricondurrete indietro voi Hitchcock io non mi intendo di macchina a vapore siete bagnato avete freddo finleison ho delle cose da mangiare qui dovete bere un buon bicchiere di qualcosa vi sono immensamente grato rao sahib credo che mi abbiate salvato la vita come ha fatto Hitchcock oh aveva i capelli diritti venne da me a cavallo nel mezzo della notte e mi tolse dalle braccia di Morfeo era un molto sinceramente preoccupato finleison e così sono venuto anch'io il somma sacerdote in questo preciso istante è arrabbiatissimo bisogna che andiamo presto signor Hitchcock per le 12 e 45 devo essere al tempio di stato dove consacriamo non so quale nuovo idolo se non fosse per questo vi avrei pregato di passare la giornata con me sono seccature maledette queste cerimonie religiose fin lì sono eh però ben noto all'equipaggio si era impossessato della barra e governava abilmente controcorrente ma nel governare mentalmente maneggiava mezzo metro di cavo metallico sfilacciato e la schiena su cui picchiava era quella del suo guru di cavo Grazie a tutti